Edder, Mech, Pallister. Per la cronaca segnaliamo che nei pressi del punto in cui Pier Giorgio è rimasto a piedi c'è proprio un altro apicoltore, quindi qualcuno dice che magari il cugino apicoltore era andato a portare materiale a questo perché a quanto pare lo riforniva. Rispetto al video in cui appunto c'è Claudio con le api e parla lui, dobbiamo correggere semplicemente un dettaglio. Non è Sebastiano a chiamare il cugino Visintino, ma è il cugino Visintino a chiamare Sebastiano. Tralasciamo comunque il discorso delle api e del miele, ma una domanda ce la dobbiamo porre. Come mai se Pier Giorgio ha il cugino Visintino così vicino, chiama Sebastiano che è invece così lontano? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare. Ehi, non dimenticare!